Anima bella, se sei giunta fin qui, è perché aneli ad esercitare il pieno controllo della tua vita, a dominare gli eventi esterni e a liberare ed agire il tuo potere imprigionato ed inespresso. Chi ti parla è Dea, iniziatrice del nuovo paradigma sociale multiprospettico e frattale che trova piena espressione nell'ambizioso e rivoluzionario progetto della reggia dei sovrani. E poiché per creare un nuovo mondo abbiamo bisogno di individui liberi e coscienti o ho deciso di mettere liberamente e gratuitamente a disposizione di tutte le anime che arriveranno in questo piccolo spazio virtuale alcune affermazioni potentissime di autoriprogrammazione, dei propri schemi mentali di autosabotaggio e delle credenze limitanti che ci impediscono di ottenere dalla vita quello che realmente vogliamo. Per questa ragione ho deciso di condividere con te alcune delle frasi liberanti, motivanti e potenzianti che io utilizzo da anni per riprogrammare il mio inconscio. Si tratta di frasi non buttate lì a casaccio ma che sono frutto del lavoro di una vita intera e testate direttamente su me stessa. Posso garantirti che a me hanno permesso di ottenere dalla vita tutto ciò che mi sono prefissa e le utilizzo ancora per ottenere quello che non ho ancora ottenuto pienamente. Innanzitutto ti invito a scaricare il file al link che trovi qui sotto in descrizione del video. Vi troverai tutte le istruzioni per seguire correttamente questa pratica di autoriprogrammazione e troverai la trascrizione delle frasi pronunciate in questa registrazione che ti servirà al fine di poterle pronunciare con la tua stessa voce di giorno. Potrai inoltre scaricare gratuitamente le tracce sonore della durata di otto ore consecutive che ti serviranno per la programmazione passiva notturna. Per la programmazione passiva notturna infatti puoi invece ascoltare una traccia sonora di frasi potenzianti della durata di otto ore durante il sonno per 21 notti di seguito. Mettila a basso volume nella stanza in cui dormi e buona riprogrammazione del tuo subconscio. Io sono Benedetta. Io sono potente. Io sono nella più totale assenza di limiti. Io credo che quello che desidero mi desidera. Io credo che quello che voglio mi vuole. Io sono scelta. Io sono eletta. Io sono amata. Io sono adorata. Io sono desiderata. Io sono il premio per chi, vibrando la mia stessa frequenza, entra nella mia vita. Io so chi sono e cosa voglio. Io so chi sono e chi voglio accanto a me. Ed ogni cosa che voglio la ottengo. So pretendere ciò che mi è dovuto. So dare a ciascuno ciò che gli spetta. attiro a me l'uomo migliore per me. Merito di trovare la mia anima gemella. Merito di vivere accanto a chi è degno del mio amore. Io creo un destino diverso da quello della mia famiglia. io instauro con il mio partner un modello relazionale diverso da quello dei miei genitori. Io rinuncio a replicare il modello materno. Io attiro a me un modello di uomo diverso da quello paterno. capisco chi è la persona giusta per me. Sono completamente libera da tutti i legami sentimentali del passato. Sono libera ed affrancata dal mio ex marito e dal mio ex compagno. Sono libera da rimpianti. So come avere una relazione feconda senza ripetere le dinamiche delle relazioni passate. So come condurre in maniera ottimale tutte le cose che desidero fare. Sono pienamente in grado di gestire armonicamente amore figli e lavoro. So cosa si prova a vivere senza essere obbligata a rinunciare a me stessa per avere una relazione appagante. So come si ottiene una relazione felice insieme ad una carriera felice. So come essere compagna di viaggio del mio uomo. So cosa si prova ad avere il proprio uomo accanto in tutte le proprie esperienze. So come amare qualcuno completamente e totalmente. So come dare amore. so come manifestare la mia anima gemella in questa esistenza. So come manifestare la mia anima gemella come portare la mia anima gemella al suo potenziale più alto. So come lasciarmi condurre al mio potenziale più alto grazie all'interazione con la mia anima gemella. So come creare abbondanza e ricchezza attraverso l'energia della relazione con la mia anima gemella. Comprendo cosa si provi a sentirsi al sicuro con il proprio partner divino. So cosa si provi a sentirsi amata da un uomo. So cosa significhi essere l'unica agli occhi dell'uomo amato. Comprendo cosa si provi ad essere bella ai suoi occhi. Sono capace di attirare la sua attenzione. So rendermi sempre più bella e sexy per lui. So permettere alla mia vera bellezza di risprendere per l'uomo speciale dei miei sogni. so cosa si vive nel far l'amore con il partner divino. So come amare il mio uomo. so come renderlo l'uomo più felice del mondo. So dargli quello che nessun'altra donna potrebbe dargli. So come alimentare la passione. So come rendere duratura una relazione. so come alimentare la sua vita. So come alimentare la sua vita. So come alimentare la sua vita. gemella compatibile. Io sono pronta all'unione con lui. Do il mio consenso affinché l'universo mi porti a lui. Merito di raggiungere ed unirmi al mio partner divino. Io sono pronta ad incontrare l'uomo che attendo da sempre. Io voglio riunirmi a lui con tutte le mie forze e lui vuole riunirsi a me dopo un lungo errore. Ora adesso lui è libero da ciò che lo tratteneva. Io ho trovato la mia anima gemella. Sono adesso con la persona che amo eternamente. Sono felice e grata di condividere la mia vita con la persona che ho scelto. Lui è il mio partner divino. L'anima gemella a me più compatibile. È galante, gentile, attento, premuroso, colto e saggio. È un uomo libero, finanziariamente indipendente. Lui diventa il mio miglior confidente consigliere. La persona che ho scelto ha scelto me. Lo stringo forte a me. Lui mi stringe forte fra le sue braccia. Mi protegge e mi accarezza. Respiro il suo respiro. Sento e riconosco la sua voce amorevole che pronuncia il mio nome. Io gli appartengo e lui mi appartiene. Mi addormento rannicchiata sul suo pento. Sento i battiti del suo cuore. Mi beo del calore del suo corpo. Del profumo meraviglioso della sua pelle. Godo di questo appagamento. ci siamo rincorsi fra cicli di vite. Ci siamo ritrovati dopo un lungo errare. Ci siamo uniti definitivamente. La nostra unione divina. Lui mi completa ed io completo Lui. ci completiamo mutualmente. l'uomo che ho scelto di avere al mio fianco è degno della mia ammirazione, del mio amore e della mia fedeltà. L'uomo che ho scelto ed attirato a me è l'uomo che supera ogni mio desiderio. Sono fiera di Lui. Sono orgogliosa di camminargli a fianco. Io sono la donna dei suoi sogni. È fiero di avermi accanto e mi espone come un trofeo. Ho fiducia in Lui e Lui in me. Io so che insieme a Lui posso raggiungere i miei massimi livelli. Il mio uomo è pazzo di me ed io sono pazza di Lui. Mi ama compassione. Si prende cura di me. Lui desidera solo il mio bene. Vive per me e io vivo per Lui. Io mi fido ciecamente di Lui e Lui può fidarsi di me. Lui è la mia fierezza. Mi arrendo a Lui. Espongo la mia umile richiesta all'universo di trovare la mia anima gemella e di riunirmi a Lui. supplico la vita di concedermi di trovare quanto prima l'uomo che mi sta cercando. Prego di trovarlo presto e di essere da Lui trovata. Affinché le nostre due anime unite possano evolvere insieme per la felicità nostra e di chi ci circonda. Meritiamo entrambi questo amore eterno. Grazie. Grazie a tutti.